Shockwave Disco Party, il programma condotto da Rizzo DJ. Un'ora di musica di Pause, House ed Electro House prodotta dai migliori DJs produceri italiani. Potrete segnalare i vostri brani, mashup, bootleg, originali o remix, direttamente da Facebook o scrivendo a shockwavediscoparty.gmail.com Shockwave Disco Party, il programma condotto da Rizzo DJ. Shockwave Disco Party, chiorciolagmail.com A presto! I'll be right back. questa fiesta sta full todo il mondo vodka todo il mondo wiki todo il mondo redful questa fiesta sta full todo il mondo vodka tutto il mondo wiki tutto il mondo redful